Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi la prossima settimana dopo la pausa estiva. Tanti i punti che attendono di essere discussi. Ripercorriamoli nelle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti dei vari gruppi prima della pausa estiva. Il capogruppo del Partito Democratico Ceccarelli pone l'accento sul piano dei rifiuti, le infrastrutture e in primis il bilancio 2024 che porta con sé temi fondamentali quali la sanità. Riapriremo con impegni altrettanto importanti. Uno tra tutti il piano dei rifiuti che ha avuto un'importante gestazione nell'ambito della Commissione che ha fatto un grande lavoro di audizione. A settembre ci troveremo ad affrontare questo tema e ad approvare il piano. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la realizzazione di Toscana Strade ma poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 2024. Quando parliamo di bilancio sappiamo che tutti i temi sono toccati e quindi inizieremo a fare la verifica di quella che è l'attuazione della risoluzione che abbiamo approvato alla fine degli Stati Generali per quanto riguarda la sanità e avremo questo importante momento di confronto con la società Toscana per vedere quello che sarà possibile allocare anche come risorse e quindi trasformare in progetti attraverso il bilancio per l'anno successivo. Sul tema dei rifiuti Italia Viva auspica che il piano sia anche un'occasione di sviluppo. Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale dove il rifiuto diventa un elemento e un valore per la Toscana. Non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare ma si deve trasformare in energia. Questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione e quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in grande rispetto a questo grande tema o altrimenti perderà questa sfida, servirà coraggio, servirà capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare, cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. Critico il centro-destra, soprattutto sul tema delle infrastrutture. Il Partito Democratico sbaglia perché considera oggi la regione toscana una regione attrattiva per chiunque voglia venirci a vivere o a investire. E questo è vero perché oggi la Toscana è una regione attrattiva. Ma dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture sono già scadenti e obsolete oggi e chi oggi viene a investire in Toscana lo fa in nome di quel brand toscana, di quella fama, di quella pill che la Toscana ha in tutto il mondo. Pensare a un futuro, noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni. E siccome in vent'anni non si realizza nemmeno mezza infrastruttura con i ritmi della Toscana e dell'Italia, perché ieri il Presidente Gianni ha parlato di godimento nel veder partire la talpa dell'alta velocità a Firenze, la talpa doveva partire 17 anni fa. Quindi questi sono i ritmi delle costruzioni delle infrastrutture in Toscana. E allora se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra vent'anni non lo saremo più per nessuno. E noi dobbiamo pensare a quello che succede tra vent'anni, non a quello che succede oggi. Quindi primo tema. E il secondo spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Ne abbiamo parlato in aula. Io mi auguro che a settembre parta questa sfida. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana in cui non esiste il segnale cellulare, in cui non esiste una copertura internet. E questo è un tema. Il Presidente Gianni ci ha lanciato la sfida, ha detto che entro la fine della legislatura avrà colmato questo gap digitale, lo aspettiamo al VAR. Io mi auguro di dargli ragione, lo dico prima. Sì, da settembre partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Lo attendevamo da tempo e quindi su quello ci batteremo fortissimo perché appunto noi abbiamo una linea, una strategicità diversa su quelli che sono i servizi che la Toscana deve offrire ai propri cittadini e alle proprie imprese. Partiremo anche come centrodestra con una serie di proposte. Tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di centrodestra indetta proprio dai tre capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma non sarà l'unica perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori dove batteremo tantissimi temi dall'ambiente alle sanità, all'infrastruttura, alla cultura, alla scuola e allo sport perché da lì partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. La consigliera Tossi del gruppo misto che ha annunciato l'ingresso nel gruppo di Fratelli d'Italia chiede attenzione per i territori. Il mio punto di vista, come eletta nella provincia di Firenze, continuerò a portare avanti quelle che sono state le battaglie che hanno dato anche dei risultati importanti, penso alle risorse che arriveranno in Alto Mugello per sostenere i piccoli comuni che hanno dovuto affrontare l'emergenza all'uvione, penso alla sfida delle infrastrutture, penso al Valdarno che attende da tanto tempo che finalmente si sblocchi un'opera strategica come quella del secondo ponte, penso all'attenzione costante al tessuto produttivo, penso al mondo dell'artigianato che è stato in qualche maniera accantonato anche in questo piano regionale di sviluppo, alle tante sfide che attendono proprio la crescita della regione toscana. Per il Movimento 5 Stelle la priorità va ad ambiente, diritti, lavoro. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti, tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scelerati come la terza torre di Novoli, inaudita in un momento come questo, e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche. Molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare, che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta veramente, non a due, tre velocità come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta. Sostenere e promuovere le start-up e le iniziative imprenditoriali toscane più innovative nel cuore della Silicon Valley. Questo è lo scopo di Casa Toscana, l'outpost desk finanziato dal Consiglio regionale e inaugurato il 7 settembre, situato presso Innovit, lab di innovazione promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. A tale scopo il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e i due Vice Presidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci sono in questi giorni in missione a San Francisco. Sono orgoglioso di poter guidare la delegazione toscana che dal 5 al 10 di settembre sarà a San Francisco. Per aprire il primo output toscano noi faremo partire un luogo di incontro, di formazione per le start-up toscane. Avranno uno spazio dove poter crescere, dove poter conoscere il mercato americano, dove poter incontrare investitori e ci piacerebbe poi che questi investitori venissero sul nostro territorio. Ci lavoriamo da più di un anno e sono anche un po' emozionato nel dire che siamo la prima regione italiana che mette a disposizione delle nostre imprese, le imprese più giovani, tutto questo. Io lo dico da chi fino a una decina ad anni fa svolgeva esattamente quello che fanno i giovani imprenditori di queste start-up, sapere che c'è una regione, un'istituzione che è al tuo fianco, che ti aiuta, che ti sostiene, che ti apre le porte. Ecco, questo è qualcosa di veramente importante di cui andare orgogliosi perché il nostro obiettivo è sicuramente valorizzare il presente ma anche costruire le condizioni per creare nuove opportunità per il futuro. Un'iniziativa fatta per l'impresa toscana, per i giovani, un'app Casa Toscana che si instaura a San Francisco in America, là nella Silicon Valley dove le nostre imprese avranno un'opportunità importante per entrare in relazione con le imprese americane e di tutto il mondo, un'opportunità di interscambio anche culturale, imprenditoriale ma soprattutto un'opportunità che il Consiglio regionale mette a disposizione dei nostri giovani, delle nostre imprese per creare una sinergia sempre maggiore non soltanto con l'America ma con tutto il mondo, l'opportunità di internazionalizzare la nostra economia a Toscana che promuove se stessa e nel promuovere se stessa ovviamente entra in relazione con i resti del mondo. Sono molto soddisfatto di partecipare a questa missione istituzionale sulla base delle intenzioni di aprirci sempre di più verso l'estero, in particolare a favorire le imprese toscane, quelle che vinceranno quel bando che recherà il nome e il logo della regione, si chiamerà Casa Toscana. Saranno delle giornate intense che ci vedranno incontrare personaggi importanti e siamo certi che le start-up innovative toscane ne avranno un vantaggio. Saremo a monitorare bene che tutto ciò accada nel nostro compito istituzionale, quello di essere costruttivi e utili nei confronti dei cittadini tutti e anche delle imprese. Presentata a Palazzo del Pegaso la settima edizione di Fratelli Burattini, il festival del teatro di figura. Dal 9 settembre al 1 ottobre 12 comuni della città metropolitana ospiteranno 23 spettacoli. Un festival che parla al cuore delle bimbe e dei bimbi e anche alle famiglie, ha dichiarato il presidente del consiglio regionale Antonio Masseo durante la presentazione. Fratelli Burattini è un'iniziativa, un festival importante, un festival nato a Firenze che è cresciuto nella città metropolitana, un festival che parla al cuore delle bimbe e dei bimbi ma che tende a parlare alle famiglie. È un modo di comunicare, un'arte moderna che sa arrivare dritta dritta al cuore. Voglio ringraziare i pupi di Stack per il lavoro che portano avanti ogni giorno, che stanno portando avanti da anni, frutto di un lavoro serio, di un lavoro impegnato, di un lavoro di frontiera, di un lavoro che sa arrivare al cuore delle giovani generazioni. Una manifestazione che ravviva una passione di popolo. Queste le parole di Cristina Giacchi, presidente della Commissione Cultura. Mentre per la città metropolitana è intervenuta Letizia Perini, consigliera con delega alla cultura e alle politiche giovanili. Una bellissima tradizione che non smette mai di diventare una cosa nuova, perché in realtà nell'epoca del digitale, del tutto schiacciato su uno schermo, credo che per i più piccoli trovare questa tridimensionalità, e anche per noi a volte, dello spettacolo visivo attraverso i burattini sia una cosa sorprendente, che possa colpire l'immaginario. È una tradizione importante che esprime una capacità artistica, non solo nella realizzazione dei burattini, che sono poi delle piccole opere d'arte ciascuno, ma anche nella struttura della narrazione, nella necessaria, diciamo, anche sintesi della narrazione e della sceneggiatura. Per i più piccoli credo che possa essere davvero una novità, come spesso sono tanti anche oggetti o concetti della nostra storia che risultano oggi del tutto nuovi. La città metropolitana ha contribuito al festival tramite il bando che la città metropolitana fa ogni anno. Il festival è riuscito a ottenere un altissimo punteggio proprio perché quest'anno ha deciso di espandersi in 12 comuni dell'area metropolitana di Firenze e questo ha fatto sì che la qualità del festival accrescesse. Non solo ha avuto anche grande coraggio, non solo nel andare a toccare appunto molti comuni della nostra area metropolitana, ma ha deciso di collaborare con tantissime realtà. Noi come città metropolitana e come ente pubblico sentiamo appunto il dovere di doverci stare, il dovere di continuare a contribuire a un festival come questo. Alla presentazione sono intervenuti Enrico Spinelli e Daria Giusti, rispettivamente capo comico e organizzatrice della compagnia I Pupi di Stack ed Emilia Paternostro della compagnia Catalyst. Sono lieto di partecipare a questa bellissima manifestazione che conferma un pochino nel fatto che la compagnia si sta consolidando, sta mantenendo le promesse, sta facendo cose sempre meglio, sempre più e sempre meglio ovviamente con l'aiuto di queste istituzioni che ci danno il loro contributo. Noi speriamo soprattutto che il pubblico sia contento come succedeva nelle vecchie commedie di un tempo. Allora le novità sono molte, questo festival nasce 6-7 anni fa per l'appunto e nasce come un vero festival di pochi giorni. A causa della pandemia abbiamo cercato di trovare la soluzione per poter fare comunque questo festival nonostante fosse il settembre 2020 e tutti sappiamo in che condizioni eravamo ed è nata l'idea proprio di diffonderlo nei comuni. Questa cosa è così cresciuta, è andata così bene che quest'anno abbiamo ben 12 comuni dell'area metropolitana a Fiorentina, si sono aggiunti il comune di Reggello e il comune di Palazzuolo sul Senio. Gli spettacoli sono diventati 24, diciamo che si parte da un discolto culturale ma poi si va ad abbracciare numerosi ambiti. Innanzitutto noi siamo veramente orgogliosi di poter collaborare a questo festival e in realtà proprio per esprimere, rappresentiamo penso tutte le realtà che collaborano insieme ai pubbili di Stac. Anche noi siamo una compagnia teatrale, gestiamo un teatro nel Mugello e quindi questo incrocio che è anche una conoscenza, una collaborazione che da anni ci accomuna con la compagnia dei Pufi si concretizza quest'anno ancora di più con una collaborazione ancora più attiva e in qualche maniera noi rappresentiamo uno dei 12 comuni con cui poi la compagnia collabora perché l'idea proprio di un festival diffuso sul territorio provinciale è sicuramente un'idea vincente e quindi speriamo poi a Barberino di concretizzare una festa finale per questo bellissimo festival. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.